capitolo 20 elter store autunno 1526 riparo le stie per i polli in previsione dell'inverno inchiodo le assi perché le bestie non soffrano troppo il freddo la sera mi reimmergo nelle memorie ricordo che venne il tempo del fun lo stesso che spira ora su un mondo diverso il fun vento caldo denso d'umido e secrezioni che spira da meridione si insinua per la catena alpina e sfucia nei campi e le vallate risalendo col suo carico d'umori folli e violente passioni per cui va famoso si impadronì di noi e di quell'inverno di febbre e delirio avvinghiò i nostri corpi in un fremito privo di controllo prima di scagliarli in una danza di morte che incide ancora tutti quei nomi sulla mia carne nomi dei luoghi dei volti nomi di morti li leggevo nelle scritture prima e saettavano fuori dai fogli racchiusi nei tomi unendosi indissolubilmente alla gioia degli occhi delle sorelle assumendo le espressioni luminose dei loro bambini i profili affilati ruvidi di contadini e minatori liberi nello spirito di dio nomi di morti adesso non avrò più nomi mai più non legherò la vita al cadavere di un nome così li avrò tutti oggi sono vivo per ricordarli e posso ascoltare la pioggia battere sul tetto mentre un altro autunno si consuma sotto l'incalzare del tempo ed helterstorf si prepara a ricevere la prossima neve il gelo dopo quest'ultimo alito caldo l'ottobre del 24 finì con un'altra espulsione extra muros stavolta si trattava di nurimberga da circa una settimana i due addetti della stamperia di hergot ci avevano consegnato il frutto di notti senza sonno e giornate di lavoro furibondo i due scritti che il magister aveva portato con sé da mülhausen 500 esemplari della esplicita messa a nudo più altrettanti della confutazione inoltre le modifiche apportate al metodo di composizione dei quarti di pagina ci avevano fatto ricavare diverse migliaia di fogli separati di piccole dimensioni sui quali era riprodotta una versione brevissima del nostro programma insieme a incitamenti rivolti soprattutto alle donne e alla benedizione del signore che ci avrebbe protetto anche con la spada se necessario avremmo potuto distribuirli liberamente durante gli spostamenti tra campagne borghi contadi dopo una discussione non priva di momenti di ilarità decidemmo di chiamarli flu blot proprio per via di quella caratteristica di singoli fogli dalla forma ridotta che potevano passare agevolmente di mano in mano adatti alla gente umile in una lingua semplice che molti avrebbero compreso direttamente o facendosene dare lettura da qualcuno quella settimana era trascorsa tra il via vai di emissari e corrieri che garantivano il primo giro di distribuzione dei testi del magister in varie regioni cento copie erano già state spedite ad augusta ma il clima cittadino non era molto rassicurante grande scalpore aveva suscitato ad esempio l'ennesima impresa di tank che il 24 25 di ottobre aveva arrengato oltre ogni misura gli studenti di san sebaldo con aperti inviti a far strage di chi si arrogava il diritto esclusivo di interpretare la parola di dio discorso al termine del quale johannes la volpe con una tipica improvvisazione si era autoproclamato rettore della scuola stessa acclamato dagli studenti entusiasti tutto ciò era piaciuto molto poco alle autorità locali pressate anche dalle notizie incessanti sul dilagare di rivolte nella selva e in tutte le regioni circostanti per cui fin dal giorno successivo si era sparsa la voce di un'imminente cacciata di tank dalle mura cittadine e così fu il 27 ottobre il carico di libri di fratello hötzel venne fermato alla porta spitfer mentre usciva dalla città per dirigersi a magonza tra i volumi le guardie del consiglio cittadino evidentemente già messe in preallarme trovarono 20 copie dell'esplicita messa a nudo sequestrarono tutta la partita e scacciarono in malomodo hötzel che aveva ricevuto dal magister il compito di diffondere e ristampare lo scritto nell'arco della stessa giornata la voce sull'imminente espulsione di tank divenne certezza all'alba del 28 ottobre eravamo già tutti in arresto agli sbirri sarebbe occorso ancora un giorno intero per rintracciare il nostro deposito her got era tornato non aveva esitato a denunciarci e a permettere alle guardie di interrogare a lungo i due apprendisti l'intera tiratura venne sequestrata solo hötz il giorno prima era riuscito a far trasferire a vibra i fogli volanti insieme a alcune copie degli scritti del magista il consiglio non voleva guai due borgomastri ci fecero visita a tardasera nella cella e ci comunicarono che la decisione era stata presa prima dell'alba ci avrebbero condotto fuori città senza dare notizia dell'arresto e dell'espulsione magiste thomas ottiglie pfeiffer tank huth elias e me ci ritrovammo di nuovo sulla strada a contemplare lo spettacolo incredibile dell'alba che spuntava timidamente dietro i pinnacoli di norimberga tingendoli di rosa questa volta il magiste non sembrava affatto turbato dagli eventi hotte ci condusse a casa sua a vibra a poche miglia di cammino un posto sicuro in cui decidere il da farsi le il magiste ci disse che era necessario separarsi e questo ci inquietò non poco l'aver condiviso le disavventure degli ultimi mesi ci aveva affiatato molto e sembrava assurdo sciogliere la compagnia ricordo la determinazione nei suoi occhi lo so ma noi sette dobbiamo fare il lavoro di cento disse e se resteremo tutti uniti non ci riusciremo mai ci sono compiti che hanno la priorità assoluta e che dobbiamo suddividerci il tempo è maturo gli empi possono essere messi alle strette mezza germania in rivolta non c'è un attimo da perdere si voltò verso hotte innanzitutto è necessario assicurarsi che almeno i libri spediti ad augusta siano giunti a destinazione e cercare di diffonderli il più rapidamente possibile hotte annui senza aggiungere nulla la missione era sua il magiste continuò per quanto riguarda me è di vitale importanza che raggiunga basilea devo incontrare colampadio e verificare se davvero la situazione è così fervida come mi hanno scritto i fratelli di laggiù se la più importante città della confederazione elvetica passasse dalla nostra parte i principi avrebbero vita dura il suo sguardo cadde su tank credo che tu johannes dovresti venire con me hai già operato in una grande città e il tuo consiglio sarebbe di grande aiuto e noi altri pfeiffer sembrò preoccupato dove ci andremo a ficcare magister thomas raccolse un pesante sacco di iuta e lo aprì sul tavolo quanto bastò per rovesciare parte del contenuto davanti ai nostri occhi i fogli volanti scivolarono sulle assi come se una mano invisibile li muovesse ecco i semi le campagne saranno il vostro campo il mio sguardo disorientato incontrò quelli di pfeiffer e di elias ottilie raccolse alcuni fogli certo i contadini i contadini guardo me devono poter sapere bisogna fargli sapere che i loro fratelli in tutta la germania si stanno sollevando e per chi non sa leggere leggeremo noi poi rivolta a pfeiffer un esercito un'armata di contadini che liberi palmo a palmo questa terra dall'impietà cerca l'approvazione del magister marceremo coi contadini su müllerhausen là c'è ancora molta gente che vuole spezzare il gioco dei tiranni dei falsi profeti sentì il calore del coraggio che mi gonfiava il cuore e i muscoli gli occhi e le parole di quella donna accesero un fuoco che pensai niente e nessuno avrebbe mai più potuto estinguere indicandoci magister thomas si rivolse a lei con un sorriso e disse moglie affido a te questi tre uomini fa che li ritrovi sani e salvi al mio ritorno dovrete essere prudenti gli sgherri dei principi sono sguinzagliati per il contado non fermatevi mai non dormite mai due notti consecutive nello stesso posto non fidatevi di nessuno il cui cuore non sia per voi come un libro aperto e confidate in dio ogni momento sua è la luce che illumina il nostro cammino badate di non perderla mai confido che in capo al nuovo anno ci ritroveremo tutti alla chiesa di nostra signora in müllerhausen buona fortuna e che il signore sia con ognuno di voi